popolo di nerd mi iscritti tutti e popolo tutto youtube bentornati ancora una volta su Master G Tricks siamo ancora sul gameplay di Naruto Shippuden Ultima di Ninja Storm 4 questo ragazzi sarà l'ultimo gameplay per quanto riguarda la storia, decisione presa perchè almeno non rischiamo di spoilerarvi tutta la storia quindi abbiamo fatto la conclusione del primo capitolo, qualche fase ho deciso di saltarla mentre volevo fare la serie intera ma poi ho deciso che è meglio non spoilerarvi la storia di modo che poi qualora abbiate il gioco possiate giocarla da voi e godervela appieno quindi questa sarà l'ultima missione che andremo ad affrontare per questo gameplay dopodichè riprenderà l'altra parte della serie insomma quando arriveremo a fare l'avventura quindi faremo diciamo metà della serie incentrata sulla parte della storia e l'altra metà su qualche gameplay dell'avventura di modo che così posso giocare più tranquillamente anche io e voi possiate godervi il titolo eventualmente almeno in questa maniera avete avuto un assaggio di quello che è questo nuovo Naruto quindi ragazzi senza perdere altro tempo andiamo a fare questo gameplay del secondo capitolo e quindi cominciamo subito il titolo dell'episodio e la forza portante del 10 code quindi iniziamo subito e andiamo a vedere cosa ci aspetta in questa in questa nuova missione insomma iniziamo subito iniziamo subito iniziamo subito iniziamo subito il titolo Mokuton! Mokuvin心 no jutsu! Sazuki Alla te va! Cuccage no o chan tach! Sanzininde yalur ki ka Sì, prima di andare a prendere i soldi con i soldi Ora, ciò che è importante a noi è che si riuscirà a risolvere l'uomo Siamo pronti subito a partire in battaglia Vediamo se riusciamo a menare come fabbri L'obiettivo è sconfiggere Obito Vediamo un po' le condizioni di battaglia 70% di salute residuo almeno Vediamo se ce la facciamo Assegno con Arterigia e Tobibara 1 Assegno con Arterigia e Ruzzen 1 Finisce la versione con tecnica suprema Ci possiamo provare Vediamo un po' Ok Eh ragazzi, questo personaggio sembra piuttosto forte da vedere Ma non è? Ma non è? Ma non è? Ma non è? Si, io ti ho provato Ma non è? Ma non è? Ma non è? E' bello forte Ok Ok Mamma mia quanto casino ragazzi Grande se non ci dobbiamo utilizzare la tecnica suprema meno male Forse mi hanno fatto i trebetti qua eh No non abbiamo finito con meno del 70% di energia però va bene Quanto ci siamo presi qua Non dice il voto perchè chiaramente il capitolo non è finito ci aspettano altri due combattimenti a quanto sembra La prima parte è andata Ok 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 Eh, così stato Alla tette desse nome l'apprenta tra il silenzio Lui è insteadente questo giusto Lui faŻ mente Ot Aven De Onze Vero con te due nasce Mimiro Mentre vocêitarya della sua Nasi E tu pizze Che resta u голiamo Si Che fumo Ma Ora, se ti senti? Non ti senti? Ma, se sei... Ma, sei sempre... ...quando sono le cose più vicino... ...qu'è il mio cuore è il mio cuore... ...qu'è il cuore... ...qu'è il cuore di cuore... ...qu'è il momento... ...qu'è il cuore è il cuore... ...qu'è il cuore è il cuore... Il mondo non è vero. Noi! Tu sei sia bene? Ma... Ma... ...mi conosci un'acqua. Chi no ha... ...mi con sui... ...mi con sui... ...mi non ho la voglia. ...na cosa che non è ricordata, ...mi conosciuto. ...mi conosciuto. ...mi conosciuto, il mio padre. Ah! E' grande Padre e figlio l'attacco ragazzi Naruto e Minato Allora sconfiggio Bito Combatti con Minato in stato di risveglio Ok concludo il trattato perciò di salute Sarà dura Arte ninja di Minato Accompagnamento di coppia Ficcione dell'avversario con la tecnica suprema Quindi utilizziamo subito Minato Per andare a segno con la tecnica suprema Venito Dritto dritto Ottimo Vediamo con Rasengan Vediamo di mettere a segno Qualche tecnica Forza Grande Grande Ok Rasen shuriken Perfetto E forse abbiamo trovato Vapakine il suprema E adesso ce la facciamo Grande Perfetto Perfetto abbiamo prodotto gli obiettivi in questa battaglia No a parte i 20 colpi però Ce la siamo cavata Ci siamo porti via una bella Ottimo 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 Bellissima battaglia Bellissima battaglia Bellissima battaglia Ebbene Ebbene cari i miei nerd Cari i miei iscritti Abbiamo completato anche questo capitolo Io spero ragazzi che fino a qui la serie vi sia piaciuta Ci rivedremo a questo punto Ragazzi lasciate un bel like sul video Commentate che non fa mai male rispondere ai vostri commenti se ne avrò la possibilità Niente ragazzi io a questo punto vi lascio con il mio solito saluto Ci vediamo a questo punto quando inizierò la parte La parte dell'avventura di questo gioco Fino allora ragazzi un saluto da MasterJ e alla prossima Ciao